Si raga ho appena lasciato qui sotto un codice skin e se anche tu ne vuoi altri ho 5 sentito per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu un codice skin un regalo da parte mia qui su Fortnite Eh raga non sto scherzando aspetta un attimo se tu vuoi ricevere questo codice skin un codice che può essere la skin di Spider-Man Ho tantissime skin e anche quello del negozio oggetti e quindi vai a lasciare un bellissimo like in questo momento Beh non sei riuscito a ricevere questo codice skin e arriviamo a 50 like per un altro codice Inoltre se tu mi lasci il tito qui sotto nei commenti io ora ti vado a regalare questi emot Sedi che questi emot è di iShowSpeed non so se lo conosci ma vale davvero tantissimo Quindi mi lasci il tito se vuoi ricevere ora questa emot da parte mia Così domani andrò a prendere i vincitori che riceveranno questo regalo da parte mia Quindi cosa aspetti? C'è ragazzi? Bye